Sono le otto e mezzo e stiamo andando da Utahia in un treno rigorosamente in terza classe e arriveremo fra due ore. Costo totale 60 Watt in tre quindi 20 Watt a testa. 20 Watt è l'equivalente di 60 centesimi. La velocità che c'era oscilla tra i due e i tre chilometri orari quando proprio il macchinista vuole provare le brezza della velocità. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!